È la fotografia di un bilancio straordinario, quella effettuata dal resoconto dei finanziamenti comunitari e nazionali ottenuti nel 2020 dal Comune di Pesaro. In totale sono più di 2 milioni e 300 mila euro i contributi arrivati nelle casse del Comune. E tra gli interventi più importanti finanziati dall'Europa c'è Big Band, macro progetto da 480 mila euro che prevede corsi di alta formazione nel settore culturale. Ovviamente è un dato molto importante, pensiamo che nei sei anni precedenti eravamo arrivati complessivamente a 20 milioni, ma con partite importanti come gli 11 milioni di liti, 15 milioni di bandone periferie o i 4 milioni di liti. Quindi siamo non solo sopra media ma anche con voci veramente importanti che vanno da quasi 400 mila euro per il bando ragbull che tiene insieme il contrasto al bullismo, l'educazione rispetto allo sport e anche le politiche giovanili. Cosa a cui ho lavorato particolarmente l'assessore Emilia Della Dora e anche l'obiettivo principale che raccontiamo oggi è l'inserimento all'interno dell'Horizon 2020 che è un po' la Champions League della progettazione europea, dove siamo con l'unica città, insomma noi e Milano, l'unica città italiana, assieme anche alla Fondazione Eni, ma partner come l'Università di Cape Town, l'Università di Goalway in Irlanda e tantissimi altri partner europei, in questo caso particolarmente sul tema della bicipolitana e del lifestyle legato alla mobilità. I bandi che l'amministrazione abbiamo lavorato riguardo anche alle mie deleghe, il primo è il bando di innovazione che riguarda i fondi IT dove abbiamo aiutato le imprese del nostro territorio e ricordo che questo bando è la prima volta che un comune lo rivolge direttamente alle imprese, tutto questo grazie appunto all'ufficio sviluppo opportunità. L'altro bando fondamentale che abbiamo spinto come comune di Pesaro è stato quello proprio per i sistemi dei corsi universitari e quindi anche i ragazzi che frequentano il corso qua a Pesaro per l'80% per i tre anni che frequentano il corso avranno la possibilità di non pagare. Il 2020 è stato un anno un po' particolare ma comunque ci siamo impegnati moltissimo per portare avanti quelli che erano dei progetti che secondo noi, secondo me, sono delle buone pratiche e sono assolutamente importanti per far vedere anche quella che è la direzione che l'amministrazione comunale intende intraprendere. Una è il tratto della pista ciclabile di Evidente del Porto che amplia la nostra bicipolitana e sicuramente va a abbellire quella che è la zona portuale. Sempre parlando di Porto molto importante è l'isola ecologica per il recupero delle plastiche in mare che più volte abbiamo presentato ma che comunque a breve vedremo anche iniziare i lavori. Ultimo passo è quello dell'efficientamento energetico dell'edificio comunale di Fiorenzola di Focara perché limitare quelle che sono le emissioni in atmosfera da parte di edifici che sono ormai un po' vetusti e che quindi sono energivori è molto importante per contenere le emissioni in atmosfera e il miglioramento dell'atmosfera che respiriamo.